Ben trovati a tutti i nostri telespettatori. Ci eravamo lasciati ieri con una puntata sulle notificazioni, che dovete sapere sono il tema più delicato e dibattuto rispetto agli altri tributari, perché c'è una difficoltà di carattere oggettivo a stabilire se una notifica è valida o meno, perché nell'arco del tempo la Cassazione ha costruito un percorso in termini di validità della notifica o di nullità della stessa, che ha determinato poi una giurisprudenza molto copiosa sul punto. Io oggi volevo trattare una sentenza recentissima che è del 10 febbraio e farvi vedere la massima per un'analisi, però per fare questo volevo farvi comprendere come si sviluppano le notificazioni, anche al fine di comprendere se una notificazione ricevuta è stata validamente effettuata. Perché le notifiche si possono effettuare a mani proprie, che è la situazione di carattere oggettivo fisiologica, cioè l'ufficiale giudiziario, l'ufficiale postale notificano direttamente al soggetto intestatario dell'atto, nel caso di una società, all'amministratore della società. E poi nel momento in cui questo soggetto non viene trovato, le norme prevedono una sorta di graduazione dei soggetti che possono essere titolati a ricevere le notifiche. E questa graduazione è una graduazione ferrea, rispetto alla quale anche gli ufficiali postali che consegnano la posta nelle nostre abitazioni sono obbligati a svolgere tutta una serie di verifiche di attività. Quindi l'articolo 138 del codice di procedura civile, che si applica anche alle notifiche degli atti tributari, prevede espressamente che la notifica venga fatta direttamente al soggetto o nel suo domicilio o dovunque venga trovato personalmente. Poi c'è l'articolo 139 che vi voglio leggere perché fa proprio una graduazione dei soggetti che possono essere intestatari della ricezione delle notifiche. La notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario ricercandolo nella casa di abitazione dove all'ufficio esercita l'industria o il commercio. Quindi quello che dicevamo prima. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario, e lo stesso principio vale anche per l'ufficiale postale che fa la consegna, consegna copia dell'atto a persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché in un minore di 14 anni non palesemente incapace. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e quando il portiere manca anche un vicino di casa che lo accetti. Il senso qual è? I soggetti che vengono indicati non sono casuali, non si può fare ad uno qualunque. L'ufficiale postale o giudiziario nella relata di notifica o nella ricevuta di ritorno deve dare espressamente atto del fatto che gradatamente ha cercato tutti quei soggetti e non li ha trovati e deve dare esplicita affermazione di questo all'interno della relata di notifica. Tant'è che la sentenza di cui vi avevo parlato e che vi volevo leggere è proprio in termini sotto questo aspetto. E' la 35 95 del 10 febbraio, quindi recentissima 2017. Dice Vi capite da questa sentenza che la gradazione dei soggetti è tassativamente prevista dalla legge e si può scendere all'interno di questa gerarchia dell'articolo 139 solo nella misura in cui è stato dato atto del fatto che i soggetti precedenti non sono stati trovati. Credo sia un aspetto importante e di grande rilevanza per far comprendere al momento in cui si riceve una notifica se questa può essere considerata valida o meno. Vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata. Grazie a tutti